amici di diffusione tech oggi facciamo l'unboxing di un prodotto particolare l'avrete già riconosciuto l'on pod che in italia non è mai arrivato ma noi ce l'abbiamo sotto la nostra lente di ingrandimento eccolo qua la scatola originale apple l'on pod di colorazione bianca come vedete ripeto dalla scatola introvabile in italia infatti l'abbiamo fatto arrivare direttamente dall'inghilterra lo unboxiamo insieme a voi per poi fare la recensione eccolo qua il nostro un pod è passato già qualche anno dalla sua produzione però secondo noi rimane un prodotto esteticamente veramente veramente bello eccolo qua come vi dicevo presa americana signori un pod eccolo qua a breve faremo la recensione completa del prodotto andiamola ancora più nello specifico la scatola non ci interessa la leviamo eccolo qua un pod logo apple veramente un prodotto bello purtroppo siri non è ancora supportato in italiano ma speriamo presto ormai dopo anni possa finalmente arrivare anche in lingua italiana sembrerebbe che da qui a fine anno dovrebbero presentare anche l'on pod mini ma con un risultato sonoro sicuramente inferiore rispetto a questo on pod una volta montato faremo la prova audio vediamo se riusciamo a rimediare anche l'on pod di tipo nero per fare la prova a livello stereo perché l'on pod si può anche unire ad un altro on pod dall'applicazione on kit i due on pod possono essere rilevati come una singola unità sonora e quindi con un suono stereo decisamente elevato comunque da qui a qualche giorno vi faremo la prova audio sia dell'on pod mono e molto probabilmente anche dell'on pod stereo a breve sul nostro canale di diffusione tech e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti.